Signor Ministro, sulla questione ambientale, questi dati terrificanti di cui si è parlato in questi giorni, cosa ci risponde? Intanto teniamo lontano Taranto dalle polemiche politiche. No, no, parliamo di ambiente. Teniamo Taranto lontano dalle polemiche. La gente muore, i bambini muoiono. Noi dobbiamo. I dati sui bambini cosa dicono? Signor Ministro, signor Ministro, signor Ministro risponda, anche lei, attenzione, signor Ministro ci deve rispondere. La mortalità infantile, cosa risponde? Sulla diossina Manduria cosa dice? Signor Ministro, l'8 marzo c'erano i figli. Signor Ministro, l'8 marzo... Signor Ministro, l'8 marzo erano stati previsti... Mi hanno buttato a terra. Non si butta... Chi è che si è permesso di buttarmi a terra? Chi mi ha buttato a terra? Chi si è permesso di buttarmi a terra? Il nostro impegno su Taranto continua, continua in maniera forte. Io voglio tenere lontano le polemiche politiche dalla questione ambientale di Taranto, perché i tarantini meritano di più. Dieci decreti, salva ilva. Si continua a morire, signor Ministro? Ci risponda. Ho la consapevolezza che i cittadini di Taranto ormai alle parole non ci credono più. Dopo 20, 30 anni... Non credono più al governo, ai decreti? Dopo 20, 30 anni di disastri ambientali credono che ormai credano solo ai fatti. Quali fatti? L'ilva di Taranto appare ormai chiaro a tutti che il nuovo piano di vendita mette al centro la problematica ambientale, la salvaguardia ambientale. D'altra parte, io l'ho dichiarato all'inizio, voglio salvare l'ilva... Non lei deve salvare Taranto, non l'ilva. Sembra il Ministro dell'industria, non dell'ambiente. Signor Ministro... Grazie, ci vediamo dopo, ragazzi, non ci riesco. Sto facendo domande, stiamo facendo domande. In qualsiasi città d'Italia, non voglio fare un caso di Taranto, quel dato non può essere già il risultato degli ultimi due anni. Il risultato di un... Le morti improvvisse di malattie cerebrovascolari, l'AIA che è stata realizzata in minima parte, lo dice l'ISPRA. Risponda, signor Ministro, risponda, non eluda la domanda. Basta, basta, grazie. Signor Ministro, cosa ci... Lei è stato con me, ma le più grande io non parlo. No, lei deve rispondere sulle morti. Lei deve parlare del futuro di Taranto. Svolto quello che dirò qui, che forse era sufficiente... Ah, ecco, io devo fare il signor sì. Io devo fare... O lei devo fare le domande che lei gradisce. Mi faccia capire. In maniera educata, risponda. Lei ha detto che vuole salvare l'ILVA. Chi tira calci? Cosa sta tirando calci? Lei ha detto che vuole salvare l'ILVA. Dobbiamo salvare Taranto, non l'ILVA. Non sono maleducato, sono un giornalista libero. Allora, quando diventerai educato, mi porta sempre a me. Io non sono il suo vassallo. Grazie. 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 Grazie.